Oh, bene! Questa insalata sta venendo su che è una bellezza! Eh? Giuro che se sono ancora gli stronzi del culto del Dio del Sole leto io... Ehi! Ma che ci fa una ragazzina alla mia porta? Senti, non li voglio i tuoi biscotti da Girl Scout! Questa ragazzina ha un nome, sai? Mi chiamo Gino Megumi! Aspè! Non mi importa, sono alquanto indaffarato con un piatto delizioso, quindi... Ehi, non si sbircia! Non dovresti essere a scuola a quest'ora! Se è per questo anche tua sorella minore dovrebbe essere a scuola! La mia gloriosa, adorabile, non consanguinea sorellina non ha bisogno della cosiddetta scuola media del cavolo! Lei... lei è un genio! Sono sicuro che stia facendo ricerche di altissimo livello in questo momento! Te ne vai adesso? Sei così maleducato! Come puoi non sentire niente dopo aver visto un'incantevole fanciulla? Dovresti dirmi certe cose tipo... Oh, piccola, stanotte ti farò volare! E poi strapparmi i vestiti di dosso nella foga del momento e farmi tua! Cosa? Ma che diamine di stragazzo ti hanno insegnato i tuoi genitori? Non molto! Mamma però mi ha insegnato a giocare... Coi cazzi! Quindi? Ah sì, mi sembra norma! Aspetta, hai detto quello che hai appena detto! Già, ne so un sacco riguardo al... Pisello! Abbio un po' di classe, donna! Andiamo! Non fare l'ingenuo! Tutte quelle della mia età sanno fare pompini! Io non... Ma quanti anni hai? Ne ho cinque! Non osare prendermi per il culo! Più sette! Ma perché cazzo vuoi farmi contare? Ok, vediamo cinque più sette... Ma come si contava fino a dodici? Ooooooooh!